Parlando della nostra prima squadra, tanti allenamenti, abbiamo visto noi dagli spalti una crescita di qualità, di carattere al giorno dopo giorno. Quali sono secondo lei i punti di forza di questa squadra e i punti dove bisognerebbe un pochino migliorare? Secondo me intanto è una squadra che ha molta voglia di fare, tutti sono molto giovani, ci sono 3 o 4 giovani importanti, 3 o 4, scusatemi, vecchi, importanti e i giovani si sono proprio amalgamati bene con loro. Credo che ci sia una gran voglia di far bene, l'allenatore vedo che ci crede, li motiva molto, sta sfruttando molto il loro entusiasmo per cui si preparano con attenzione e credo che proprio la sorpresa sarà questo loro entusiasmo, questa loro forza che hanno e di dimostrare che ci possono stare. Grazie mille. Grazie a te, buon calupo. Ciao.